buongiorno a tutti sono il dottor fametti oggi sono qua per spiegare una cosa che ancora è stata bene compresa la maggior parte delle persone ecco diciamo che la domanda di oggi che ci vuole è che cos'è la abbia ebbene la abbia è un'associazione ancora ma sarà ben approfondita dagli studiosi e che ancora non si sa bene quali sia origine neanche di cosa si tratti di sabbia una malattia che ci fu nel medioevo che abbia totalmente debellata attualmente non si vede più rabbia da quando i fascisti hanno conquistato fiume che a questa mattia che partiva dai canini la canina quella deve a quattro zampe migliori amici dell'uomo anche io un cane personale si chiama troi e un chi guava è un ottimo cane addestrato abbaia quando viene guardato ma non è di questo che voglio parlare rabbia e a questa malattia che portava l'animale a sbavare 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 in questo modo e poteva anche essere trasmessa dagli umani tramite morsi o graffi o bestemmie il cane bestemmiava tramite l'onda sonora delle bestemmie dell'animale veniva trasmessa la malattia direttamente nelle cervelle della persona malattia che poi andava intaccare il vaso oculare che si trova all'interno della milza ma non è della malattia che vogliamo parlare oggi bensì del sentimento della abbia allora la abbia che in gergo scientifico sarebbe abbia saudita si tratta di un sentimento che porta la persona che lo subisce a cacarsi addosso perché si trova davanti un soggetto quando si tratta di abbia possiamo parlare di abbia a distaccata o abbia veicolata la abbia distaccata si può trovare nei soggetti che si trovano al momento da soli e quindi se la prendono si irano contro un qualcosa di inanimato a cui non possono fare alcun danno quindi sicuramente non un essere vivente quindi una persona non possono nel caso di distaccati una persona può distruggere un oggetto può spaccare una tv prendere a pugni la scrivania sventare il proprio pappagallo ma non ci darà una persona mentre quando si parla di rabbia veicolata si tratta di una rabbia che appunto viene veicolata dal soggetto in questione verso un sofferente detto tale scientificamente bene il sofferente subisce le angherie dell'arrabbiato gergo tecnico per identificare chi soffre di rabbia l'arrabbiato tenderà così a agire per colpa della rabbia in un certo modo verso chi subisce mi subisce questa marca che sentiamo tanto nominare prende nome proprio da questa attività ebbene quando l'arrabbiato per qualche motivo e specifichiamo ci sono diversi motivi per cui si può contare questo sentimento di rabbia in alcuni casi può essere che ci sia stato fatto un torto e magari ce la prendiamo proprio con la persona che ci ha fatto questo torto perché ci fa incazzare e quindi noi ce la prendiamo con lui direttamente e questo di solito è la cosa che permette di sfogarsi perché dovete sapere che quando una persona soffre di attacco di rabbia tenderà a trovare un veicolo per sfogarsi ebbene sì quando una persona si rabbia il suo obiettivo diventa sfogarsi e non spesso viene ignorato qualsiasi ostacolo a questo obiettivo scusate soffro di un grave caso di raffreddore o malattia che sta andando in voga ultimamente allora quando appunto si l'arrabbiato cerca di sfogarsi non ci vede più dalla rabbia come si suol dire questo è un termine una una prifrasi che è stata inventata direttamente dai scienziati perché non è un modo di dire è un dato di fatto l'arrabbiato non ci vede ed è per questo che alcuni casi di rabbia portano addirittura all'uccisione del soggetto che subisce vedete per esempio stephen king assassino diverse persone che soffriva molto di rabbia ma anche vediamo se mi viene in mente assassin creed un altro personaggio che soffre molto di questi attacchi di in questi casi più estremi l'ostacolo è la legge che viene ignorato ma perché perché sotto l'effetto di questa malattia che non è una malattia una sensazione sotto questa sensazione di rabbia non sia più la visione della realtà si tenderà quindi a ignorare quella che è la realtà in casi più tranquilli meno estremi l'arrabbiato magari tenderà a vedere un pochino con un pochino di katata oppure avere un pochino di miopia quindi comunque riuscirà a distinguere la realtà e a non infrangere leggi a non provocare gravi danni sia verso persone che verso cose in casi più estremi invece si può andare direttamente alla cecità che è una cecità temporanea a parte nel alcuni carri casi come ad esempio nel caso di achille lauro che è tuttora cieco ricoverato in ospedale per colpa di questo sentimento per fare qualche esempio casi più leggeri possono essere provocati ad esempio da un piccolo torto se un mio amico dovesse un domani rubarmi 2 euro e 50 dal portafogli perché magari si trovano portafogli in mano e metti caso che un po con l'urgenza potrebbe succede se io me dove si accorge probabilmente potrei essere afflitto da un attacco di rabbia leggera almeno nel mio caso perché alcuni pazienti tendono a soffrire né più di altri quindi la mia reazione sarebbe magari una sgridata una discussione verso l'amico che mi ha commesso l'estorsione un caso estremo potrebbe essere ad esempio se il mio amico mi inculasse cerco tecnico la ragazza o ancora peggio la mia fidanzata o ancora peggio la mia moglie ebbene sì la cosa più grave che può scatenare le gravità che di rabbia spesso è il sentimento di affetto che viene persuaso da un terzo che non permette l'abolizione del carattere infantile bensì si va verso una seguità ed è per questo che alcuni casi portano addirittura la morte di terze persone e molti di voi mi chiederanno dottor dottore ma è mai morto qualcuno per rabbia e attenzione perché voi sbagliereste a pormi la domanda perché sì io ho già specificato che in alcuni casi ci sono state dei morti causati da questo sentimento che però non sono direttamente gli arrabbiati ma sono i subiscenti quelli che subiscono perché in case estremi ripeto ci possono essere assassini criminali malfattori che portano alla morte di terci per colpa della rabbia ma è mai morto qualcuno arrabbiato per colpa della propria rabbia la risposta non la so ed è per questo che concludo qua nella prossima puntata parleremo gianfranco scusate il mio direttore d'orchestra gianfranco oh sta facendo i cazzi suoi gianfranco vieni qua vieni qua ciao ma ma ascoltano tra le cuffie non mi no ma nella prossima puntata è nel no questa quella dopo in cosa si parla è gianfranco io non ti capisco vabbè non lo so di cosa fare ma la prossima puntata comunque non si sa c'è una prossima puntata mi dice non si sa mi fa fatto così non si sa va bene forse ci sarà cosa puntata fossero nel caso ci sanno se puntata parleremo sicuramente di qualcos'altro oppure approfondiremo il tema della rabbia non sappiamo come proseguire a questa questione detto questo concluderei perché sono 12 minuti che parlo e comunque un video del genere può essere pieno di concetti difficile da lavorare qui preferiscono troppo lungo diciamo noi ci vediamo il prossimo video una prossima spiegazione in una prossima puntata se ci sarà buona giornata a tutti e buona fortuna con la rabbia e mi raccomando sempre meglio arrabbiati che subiscenti ciao ragazzi